Ecco tre ragioni per le quali dovresti salvare questa data, 24 novembre 2023. Ragione numero 1. Per la sua sesta edizione, Sinergie, l'evento indipendente dedicato all'immobiliare dei servizi, sbarca per la prima volta a Roma. Ragione numero 2. Abbiamo scelto una location davvero eccezionale, Spazio 900, nel cuore del quartiere EUR della capitale. Ragione numero 3. Avremo a disposizione oltre 1000 metri quadrati per creare relazioni personali ed affari davvero produttive. Ci saranno ospiti e relatori di primo piano, capitani d'azienda, consulenti di alto profilo, formatori che ti aiuteranno ad acquisire la necessaria visione per costruire un'attività immobiliare a prova di futuro, attraverso le necessarie informazioni, le nuove competenze, gli strumenti innovativi. Ma soprattutto sarà l'occasione per un confronto diretto con i tanti colleghi agenti immobiliari che arriveranno da ogni parte d'Italia. Il 24 novembre lavoreremo tutti insieme per dare la giusta evidenza ad una professione che merita di essere riconosciuta dal mercato, che merita di essere valorizzata, che deve confermarsi indispensabile per ogni fase della compravendita, dall'acquisto della prima casa all'investimento alla gestione immobiliare. Nelle prossime settimane pubblicheremo una landing page dedicata all'evento dove confermare la tua presenza come membro attivo di una comunità immobiliare più forte, più determinata, capace di guidare il cambiamento. Ti aspetto per incontrarti personalmente all'appuntamento più importante dell'anno per l'immobiliare. Segnati questa data, 24 novembre 2023. Resta collegato alla pagina LinkedIn di Sinergie Edizioni per tutti gli aggiornamenti. Ci vediamo a Roma. Piccola nota di servizio. Se guidi un'azienda, un progetto, un'iniziativa a cui dare visibilità e che vuoi presentare alla parte virtuosa degli agenti immobiliari italiani presenti, hai 25 possibilità di prenotare la tua visibilità. Questi saranno gli spazi disponibili per gli sponsor, assegnati per ordine di opzione. Per ogni informazione puoi scrivere a teamchiocciolasinergie.re. Re come real estate.